Eccolo il cross che gira sulla testa di Alex, il vantaggio del Milan al trentacinquesimo, Alex sblocca il derby di Milano. Icardi, Donnarumma, ancora Icardi, non mette in mezzo, ancora Donnarumma, fa la gol per l'Inter. Calcio di rigore, calcio di rigore per l'Inter. Parti Icardi, Paolo! Continua la maledizione del derby di Icardi. In l'area di rigore c'è il solo Bacca, lo cerca Niang, vale in mezzo, Bacca, 3-2, e lo tocca il Milan. Apparecchia per Niang, Andalovic ancora Niang! Game, sana e match per il Milan, al minuto 77, 3-0, esplode la gioia anche di Milanovic.